Auto distrutte, assaltati mezzi pubblici e negozi, oltre 90 poliziotti feriti, più di 350 fermati. A Francoforte è sfociato in guerriglia urbana la protesta di Blockupy contro l'austerity e contro la politica e la nuova sede della Banca Centrale Europea. 10.000 le persone scese in piazza per un corteo che doveva essere pacifico. Frange e Violente hanno prima incendiato auto della polizia e poi lanciato sassi contro gli agenti. Penso che la Banca Centrale Europea sia lo status simbolo della politica monetaria in Europa, dice questo manifestante, per la potenza che rappresenta. Ecco perché siamo venuti qui. Tutte queste persone sono arrivate da moltissimi paesi e hanno un unico obiettivo, lottare contro le politiche imposte dal capitalismo. Nonostante gli scontri, nella città tedesca la nuova sede della Banca Centrale Europea è stata comunque inaugurata. Si tratta di un enorme edificio alto 185 metri con due torri, un'opera del valore di oltre un miliardo di euro.